Bene ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di una nuova opera Diciamo nuova opera, anche se per noi in Italia è una nuova opera, in Giappone è uscita nel 76 Ok? Perfetto. Ma quest'opera diciamo che è uscita nel filone delle opere che cercavano di emulare Un'opera molto più grande di questa, ovvero Rocky Joe. Rocky Joe è uscito nel 68 se non mi sbaglio Quest'opera nel 76, perché? Perché anche quest'opera tratta di box, tratta di un ragazzino anche quest'opera Ma è leggermente diversa, almeno l'inizio è diverso, poi io ho letto il primo volume quindi ancora mi sono fermato lì Però non mi sembra assolutamente male. L'opera di cui voglio parlare è questa Forza Genki, che sarebbe Gambare Genki L'autore ragazzi è Yu Koyama. Allora, io sono sincero, quando ero andato a sentire per questo manga Sono andato in fumetteria e ho detto guarda, ero interessato a prendere questo primo manga Lui mi ha detto ho i primi sette e li voglio vendere in blocco Cioè nel senso non ti posso dare solo il primo, te li vendo in blocco E ho deciso di prenderli, poi li vedrete prossimamente magari in un futuro video acquisti Io ho finito di leggere questo ieri sera e devo dire la verità, non mi è dispiaciuto Io durante la lettura ho pensato, bene, sono sicuro che succederà una cosa che è successa anche in Rocky Joe Che è una cosa molto comune per chi fa questo sport Allora ragazzi, però partiamo dall'inizio Ci sarà uno spoiler? Sì Inizia il manga, ci presentano questo ragazzino che si chiama per l'appunto Genki Che ha cinque anni e lui, da quello che ci fanno capire, anche da quello che ci fanno vedere successivamente Non ha più i genitori, nel senso la mamma è morta Il padre c'è ma attualmente non è con lui perché sta girando il mondo Essendo comunque uno che fa box o almeno Poi si scoprirà che è uno che faceva box, ma comunque non c'è in questo momento Lui è affidato a una coppia Non posso neanche dire anziani, vabbè diciamo anziani Una coppia di anziani dove la moglie è veramente una stronza E il marito che deve fare? Dice Oh, me l'ha affidato, io lo prendo volentieri Non posso lasciare un ragazzino in mezzo alla strada Non mi pagano, nel senso non è che mi danno i soldi per crescere questo ragazzino Quindi gli devono mettere l'ororo E non è che sono così ricchi E infatti la moglie per questo è molto incazzata Genki, il ragazzino, praticamente passa tutte le sue giornate Sul ciglio di una strada con un ombrello distrutto Dove appeso a questo ombrello ci sono tipo bottiglie vuote Un sacco di roba, non so, gira con questo ombrello Ma perché fa questa cosa? Perché le persone che passano dal delice Se c'è una persona che lo guarda E incrocia il suo sguardo Se Genki se ne accorge e lo guarda, lo sfida Genki sfida chiunque Grandi, piccoli, chiunque, non gliene frega niente Chiaramente a menarsi, a fare box Arriva un ragazzino in bici Più grande di lui, chiaramente Lo guarda e parte la sfida Vince il ragazzino perché è più grande Ma anche perché è più grande e lo blocca Avete presente, no, quando uno ti blocca così per la testa Te cerchi di colpirlo e non ce la fai? Ecco, succede anche qui, per l'appunto Perché è piccolino Ancora non ha le leve lunghe Però questo ragazzo si accorge che Genki mena Cioè, ne ha presi qualche pugno E se ne accorge che mena È un ragazzino normale, non è niente di speciale Cioè, non è un futuro campione No, è un ragazzino normale che passava dal di lì E Genki lo ha menato, tutto lì Come vi ho detto, ragazzi, Genki vive in questa casa Con questi genitori Con queste persone Che non sono i suoi parenti Ma, oltre a lui, ci sono altri ragazzi Altri due, se non mi sbaglio Forse anche più di due Ma comunque, altri due Il giorno seguente Genki va al parco E vede che i ragazzi che vivono con lui Sono assaliti tipo dai bulli E lui interviene Chiaramente facendo box Li distrugge tutti Senza nessun problema Arriva Un bullo molto più grande di lui Stupido Avete presente quei bulli Grosso ma proprio stupido Con la faccia proprio Così da ebete E che è Ed Enki lo mena Lo mena Lo mena Però il bullo comunque è più grosso A un certo punto lo prende per un piede E lo lancia Contro il muro Mi pare E gli fa anche male Mi sembra che gli rompa un braccio Comunque gli fa male a un braccio Finisce all'ospedale Però lui non demorde Continua sulla sua strada Si rimette E continua a guardare male le persone per strada E combattere con quelle persone lì A un certo punto Torna a casa suo padre Lo vediamo tutto straccione Torna comunque a casa Va a prendere Enki E decide di partire insieme a Enki Quindi lascia quella casa lì Enki E parte col padre Non hanno tanti soldi Cioè Girano un po' per il paese Suo padre prova a fare dei lavori Un po' santuari Così ma anche il suo padre è uno che Insomma se gli gira un po' i coglioni Soprattutto quando l'avevano assunto Come maestro No come maestro Come sparring partner Se non mi sbaglio L'avevano assunto come sparring partner Però a lui a un certo punto Gli girano i coglioni Perché aveva preso tipo un pugno E allora ha massacrato di botte il ragazzo E l'hanno licenziato La cosa bella che capiamo subito È che il padre durante questo tragitto Con il figlio In questa avventura Continua ad allenarsi E anche il figlio Continua ad allenarsi Quindi si allenano insieme Creano insieme Il loro rapporto Che Sì Magari c'era anche prima Ma era molto più debole Adesso Visto che passano Tutto il giorno insieme Continuano ad allenarsi Per tutto il giorno Si fermano per mangiare Mettiamola così E per dormire E dormono dove possono Mangano quello che possono Parte anche un flashback Ci fanno vedere Quello che è successo Alla mamma Di Genki Che essendo comunque una persona Cagionevole di salute Quando lei ce l'aveva nella pancia Stava abbastanza bene Poi durante il parto Purtroppo ha avuto dei problemi E lei è morta Quindi Genki è venuto alla luce Ma lei non ce l'ha fatta Il bello di quest'opera Ragazzi Che ti fa vedere Veramente il padre Quello che vorrebbe per il figlio Cioè Lui ama la box Il padre ama la box E vede che anche il figlio Ama la box Ma non gli dice Fai la box Deciderai tu Quando sarai grande Vuole far star bene al figlio Vuole avere i soldi Per poter crescere bene il figlio Vuole fare di tutto Solo per il figlio Perché? Perché l'ha promesso alla moglie Come vi ho detto ragazzi Continuano ad allenarsi Giorno dopo giorno Il padre addirittura Smette di mangiare O comunque cerca di mangiare Il meno possibile Dice per far dieta Ma in realtà lo fa Perché vuole scendere Di due categorie Per combattere Ai pesi Come si chiamano? Super leggeri Comunque vabbè Deve scendere di due categorie E quindi deve dimagrire E per dimagrire Non mangia La cosa ragazzi È che il padre Ha veramente i morsi della fame Sta malissimo Solo che Quando è davanti al figlio Sta sempre allegro Gli dice che sta bene Che non ha problemi Che non deve mangiare Ma appena il figlio dorme O il figlio va a fare qualcosa Lui si vede proprio Che ha i morsi della fame Che non ce la fa più Sente addirittura Tipo lo stomaco Che gli si attacca Alla spina dorsale Cioè non mangia veramente niente Vi ricordate il ragazzo Che all'inizio ha affrontato Genki Quello dove ha perso Chiaramente perché il ragazzo Era più grande Ecco lui È diventato amico della famiglia Amico di Genki E Genki gli telefona Mentre è in viaggio col padre E chiede Con questo ragazzo Se ha ricevuto Una lettera Da parte di qualcuno Per il padre Per vedere se il padre Gli possono dare la possibilità Di fare un incontro E scopre All'inizio La prima telefonata Dice no Non è successo niente Gli telefona Qualche giorno dopo E scopre che sì È arrivata una lettera E il padre è super contento Anche Genki è super contento Vanno in questa città E vanno anche in questa palestra Perché il padre Dovrà prepararsi Per questo incontro Quindi arrivano in questa città Il padre Io vi ripeto Che non mangia Quindi vedremo molte volte Lui che soffre Perché non mangia Ha fame ma non deve mangiare Perché deve scendere di peso Addirittura vanno in un ristorante Fanno ordinare Quello che vuole A Genki Anzi a Genki Lo dirò un sacco di volte Genki Ma è Genki Mentre su una ristorante Il padre Si allontana un attimo Va fuori e dice Vado a fare una telefonata In realtà va fuori a soffrire Perché ha male Per l'appunto allo stomaco Ed Genki Questa cosa Se ne è accorta Che il padre sta soffrendo Non lo dice Ma se ne è accorta E il cibo Che gli portano Ne mangia un pochino E il resto lo butta dentro la borsa Dentro un sacchetto Che aveva nella borsa Dice col padre Che ha mangiato tutto E se ne vanno Mentre se ne stanno andando Genki prende questo sacchetto E lo butta giù per un fiume Quindi ti ha fatto capire Che non ha mangiato neanche Genki Perché vuole emulare il padre Per questa cosa Anche Genki Se vede il padre soffrire O comunque il padre dimagrire Per affrontare un duello Lo vuole fare anche lui Io vi ricordo Che ha cinque anni Genki Arrivano in questa struttura In questa palestra E oltre all'incontro del padre Si scopre che ci sarà un torneo Per l'appunto Anche per ragazzini Quindi per ragazzi Dell'età di Genki O super giù Genki super fomentato Super contento Decide di partecipare Chiaramente è Un torneo molto leggero Nel senso I guantoni sono Veramente super ripieni Di cose morbide Quindi se ti colpiscono Non ti fai male Non dovresti farti male Genki è super esaltato Addirittura alla notte Dormono in un buco Veramente in un buco Genki va fuori Perché viene mandato Dal padre A comprare da mangiare Per mangiare Dei mangiare Genki Genki scusate Ma Genki non mangia Non va neanche a comprare da mangiare Va fuori E ti fa capire Che ha ideato Un nuovo pugno Un nuovo colpo Lo fa contro dei bidoni Dell'immondizia E li fa tipo saltare in aria Però non ti fa vedere il colpo Ti fa vedere solamente Il bidone che schizzava in aria Tutto lì Va dal padre Gli dice Adesso sono contento Di partecipare a questo torneo Il colpo speciale Che ho ideato Non te lo faccio vedere Ma lo vedrai Durante l'incontro Che farò Arriviamo al giorno dopo Il giorno del torneo Per il figlio Ok per Genki Inizia questo torneo Genki deve affrontare Un altro ragazzo Lo distrugge in un attimo Ma Addirittura L'altro ragazzo Sente i colpi All'inizio chiedono Boh Forse L'altro ragazzo Ha sbagliato Comunque è caduto a terra Per questo Per quest'altro motivo Non danno onore A Genki Dicono Boh Ha avuto fortuna Avrà avuto No E riesce a sconfiggere Questo ragazzino Il turno dopo Vabbè Chiaramente è un torneo Dove in tutto Sono due Quattro 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 Cinque Versè Quattro Cinque persone In tutto ragazzini E fate conto che Genki Fa due incontri Più la finale Tutto lì Secondo scontro di Genki Vince anche quello Senza nessun problema Cominciano a pensare Beh però Questo ragazzino Guarda che ci sa fare Arriviamo in finale Genki deve affrontare Questo ragazzo Che Praticamente non perde Da tre settimane Quindi è anche Abbastanza bravo Io vi ricordo Che Genki Non sta mangiando In questi giorni Quindi è molto debole Anche lui A un certo punto Ha una sorta di ricaduta Che per appunto Del cibo Perché non mangia E il nemico Il ragazzo L'avversario Comincia a colpirlo Col destro Sinistro Genki Senza nessun problema Schiva Tutti I colpi Tutti A un certo punto però Boom Fa la mossa speciale Questo colpo speciale Di Genki Che ha inventato lui Vi ricordo E c'ha cinque anni Vabbè Ha inventato lui E qual è Questa mossa speciale Praticamente Il nemico Ti colpisce Con un pugno Tu eviti il colpo Da sotto E lo colpisci Ma non è un montante Non lo colpisci Con un montante Al mento Perché usando Comunque il montante Sì Funzionerebbe Ma non sarebbe Efficace Come quella Che sta usando In questo momento Denki Perché Non è un montante Ma è un Un diretto È un diretto Da sotto Quindi non è Così Ma è da sotto Proprio Cioè Praticamente tu Usi le gambe Spingi sulle gambe E vai su Quindi tutta l'energia È lì Invece col montante Devi fare Più movimenti E facendo questo movimento È devastante Cioè Lo colpisci E non dico che hai vinto Ma quasi Beh in questo caso Ha vinto Ma un colpo del genere Ti mette quasi sempre KO Il giorno dopo Il giorno dopo Ragazzi C'è l'incontro Del padre Lo vediamo Salire sul ring Si toglie la maglia E lo vediamo Tipo magrissimo Tutte le ossa Si vedono E qui Finisce il volume Potrei dirvi Come finisce La storia del padre Se vince Se perde Se ha problemi Se non ha problemi Potrei chiaramente dirvelo Ma non lo faccio Perché questa cosa È nel secondo volume Allora Ragazzi Io Vi dico la verità Non mi è dispiaciuto Per adesso Per adesso Non mi è dispiaciuto Non è all'altezza Di un Rocky Joe Ok Però Non è brutto Ecco Non è all'altezza Di Rocky Joe Però non è brutto Se volete Un'altra storia Di box Siete appassionati Vi è piaciuto Rocky Joe Provate a prendere Il primo volume Vedete Intanto se lo trovate Prendetelo Leggetelo E poi Giudicate Per adesso Non mi è dispiaciuto Mi piace Genki Come personaggio Il padre Si Insomma Mi piace Non ci sono così Tanti altri personaggi Sono tanti personaggi secondari Vedremo ragazzi Vedremo Io spero Che il video vi sia piaciuto Se così lasciate un bel Pollice in su Se non mi è piaciuto Chiaramente Pollice in giù E Bella